Lavori fermi da novembre e Villa Medeo chiusa a tempo indeterminato. Lo denuncia il capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, dopo aver effettuato un sopralluogo fuori Villa Medeo. Al fine di sollecitare l'aggiunta, il capogruppo della Lega e il consigliere Valeria Visconti hanno presentato una interrogazione al sindaco per sapere per quali motivi i lavori dentro Villa Medeo sono ormai fermi da tempo e quando riprenderanno, quando è prevista la fine dei lavori e quindi la data di riapertura al pubblico di Villa Medeo. Ne abbiamo parlato con il capogruppo della Lega, Oscar Aiello, e abbiamo anche ascoltato la risposta dell'assessore Marcello Frangemone. Sì, sono stato chiamato ad effettuare un sopralluogo all'esterno di Villa Medeo, all'esterno perché la villa è ormai chiusa da diversi mesi per dei lavori di manutenzione ordinaria e anche straordinaria. Peccato però che i lavori sono fermi, ormai mi dicono almeno da novembre. Villa chiusa vuol dire che la villa continua ad essere non fruibile e non sappiamo fino a quando. Io ho già dato il compito agli uffici di verificare un po' l'andamento dei lavori.